ok va beh, pacazzo e che cazzo eeeh ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove non ho ancora una intro ma qualcosa di cui parlare prima di partire con il video però a parte la location che è diversa dal solido vi volevo fare una proposta nell'ultimo video che ho fatto il vlog dei moschettoni uno di voi nei commenti mi ha fatto questa proposta ovvero di fare una specie di podcast nel quale raccontare storia dei moschettoni allora facciamo così, io intanto devo ancora chiedere alla persona che ha fatto insieme a me la sceneggiatura il copione del tutto, devo ancora chiedere se a lui va bene però se arriviamo a 25 mi piace entro 24 ore dalla pubblicazione di questo video contando sul fatto che la persona che ha fatto la sceneggiatura con me voglia che la serie venga pubblicata anche su youtube io farò il podcast completo delle 4 stagioni dei moschettoni 25 mi piace, sta a voi oggi voglio parlare di musica premetto che io non solo con la musica ma un po' in generale vada a momenti nel senso che ho un periodo nel quale magari ascolto solo un tipo di musica un altro in cui ascolto soltanto un altro tipo di musica o anche soltanto un artista e così via anche per il modo di vestirsi per gli hobby anche per esempio fatta sta premessa partiamo con il video allora io iniziai ad ascoltare musica perché mi interessava a me quando andai alle medie perché i miei mi regalarono il mio primo cellulare perché prima di questo cellulare qui non avevo un cellulare appunto grazie al cazzo avevo un nintendo ds nel quale c'era musica scaricata tutta legalmente ovviamente solo che erano canzoncine un po' del cazzo tipo non lo so Buccino Pio stavo dicendo allora la prima musica che iniziai ad ascoltare era la musica classica non sto scherzando adoravo la musica classica alle medie e ascoltavo solo quella ascoltavo Mozart Beethoven Bach quelli più conosciuti dopo la musica classica inizio ad ascoltare musica un pochino più recente inizio ad ascoltare i Queen i Rolling Stone e basta se non sbaglio anche lì mi fissavo proprio ero fissato con quel tipo di musica lì dopodiché iniziai ad ascoltare musica che andava in radio più o meno il percorso tra le medie e le superiori ascoltavo un po' di tutti l'inizio delle superiori iniziai ad ascoltare solo ed esclusivamente Emine solo Emine mi ascoltavo sempre tutti i giorni dopodiché si arriva ancora a un altro periodo nel quale ripresi ad ascoltare ancora i Queen e i Rolling Stone e così via dopodiché iniziai ad ascoltare Bob Marley musica reggae a bestia proprio dopo Bob Marley si arriva ad oggi che ascolto i Daft Punk leggermente proprio leggermente diversi da Bob Marley e oltre i Daft Punk ovviamente il mitico e inevitabile inevitabile il mitico e inimitabile bello figo spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto lasciate mi piace e se soprattutto volete vedere il podcast sui nostri toni lasciate mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutto quello che faccio seguitemi su Instagram che anche lì ogni volta che pubblico un video faccio una storia e niente raga io come al solito non ho ancora una auto e ci salutiamo così ciao